www.feyyaz.tv L'esercito di draghi ai miei ordini annientano l'imperatrice Vorrei tanto trovare il modo di dare una bella lezione a quei maghi Cosa posso fare? Devi superarlo in astuzia Lo scendro di Sapri ha la capacità di comandare i draghi rossi Noi invece ci imboschiamo, lasciamo calmare le acque, poi torniamo e derubiamo tutti C'è solo un piccolo problema Problema? Diciamo che ho preso l'impegno di trovare lo scendro Finisce a prenderlo! Lo sai quanto ci darebbero per uno di questi? Stoccarlo! Uccideteli Occhio di drago è il premio che si trova al centro del mio labirinto Se arrivi fino in fondo, vinci il premio C'è mai riuscito qualcuno? Sono tutti morti provandoci Però che tu stia scherzando Non è che per caso sei single? Tu prendi la mappa Perché tu prendi la ragazza e io la mappa? Qui ci vuole un piano nuovo Tu credevi davvero che avresti potuto rubarmi il mio destino? State Tutta l'ora della tua morte! Tutta l'ora della tua morte! Non è che per caso si trova un progetto al centro del mio publicly